Contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani, i 25 mila morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro, di altre problematiche, non usiamoli per umiliare l'Italia, non usiamoli per dare ai cittadini false notizie, date i numeri, controllateli, non sono morti in Italia, quindi 5 mila persone di coronavirus, non è vero, è un modo per terrorizzare gli italiani e imporre una dittatura del consenso, è ridicolo! E' 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 ridicolo! è ridicolo è ridicolo è ridicolo è ridicolo è ridicolo è ridicolo è ridicolo